Il prossimo campionato di Serie B ripartirà quando sarà possibile giocare a porte aperte. Questa è l'idea chiara di Pietro Basciano, presidente della Nega Nazionale Pallaccanistro, che ne ha spiegato anche le motivazioni. Riprendere il campionato a porte chiuse, oltre ad aumentare il danno economico dei club, non avrebbe alcun senso, per cui la soluzione sarebbe posticipare. Per ripartire poi a porte aperte, ha dichiarato il numero uno della LNP. Nel caso in cui ad ottobre non sarà possibile giocare davanti ai propri tifosi, quindi, le stagioni potrebbero subire uno slittamento di qualche mese. Le indiscrezioni trapelate negli scorsi giorni parlavano di un governo intenzionato, sotto la spinta del comitato scientifico, a permettere eventi sportivi soltanto a porte chiuse fino al 2021. Una ipotesi che, se fosse confermata, sposterebbe in avanti di almeno tre mesi lo start del campionato per la Scandone. Tutto per evitare che i danni economici generati dallo stop improvviso delle stagioni possano continuare anche in quell'avvenire. Prima ci sarà da capire quante squadre riusciranno ad essere ai nastri di partenza del prossimo campionato e che formula avrà la prossima stagione di Serie B. La FIP ha per ora lasciato campo aperto alle varie leghe, aspettando le proposte di LBA e LNP per poi esprimere un proprio parere con la consulenza del settore agonistico della federazione. Almeno sotto questo punto di vista, nelle prossime settimane se ne potrebbe sapere di più. Grazie a tutti.